Con due ordinanze urgenti, il Comune di Capannori ha stabilito la disinfestazione di due aree del territorio per emergenza sanitaria dovuta al virus dengue trasmesso dalla Zanzara Tigre. I casi segnalati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asla all'ente di Piazza Aldomoro sono stati rilevati in via dei Cotenni e a Segromigno Monte e riguardano due persone che lo hanno contratto separatamente in un viaggio di lavoro in India. Il Comune si è mosso subito con la bonifica per evitare il propagarsi della malattia virale sia nei luoghi dove è stato riscontrato il contagio che nelle vie limitrofe in un raggio di 200 metri. L'intervento è iniziato nella giornata di lunedì, accolto però di sorprese i residenti della zona che evidentemente non erano stati informati del problema e dell'operazione di sanificazione. Solo chi in quel momento si trovava in casa ha appreso cosa stessa accadendo e ha potuto correre ai ripari, chiudendo le finestre, ritirando i panni stesi, tenendo al chiuso gli animali domestici. Tutte prassi che vengono raccomandate in questi contesti. La notizia effettivamente non è stata diffusa nemmeno attraverso note ufficiali alla stampa. La notizia effettiva compare solo nell'albopretorio del Comune di Capannori dove sono state pubblicate le ordinanze firmate dal sindaco Giordano Del Chiaro. Tra le raccomandazioni a lungo termine è quella di attendere 15 giorni prima di consumare frutta e verdura dell'orto dopo un lavaggio accurato. La bonifica viene effettuata solo a scopi preventivi, spiega il dottor Gregorio Loprieno del Dipartimento di Igiene Pubblica dell'ASL. Non ci sono evidenze per dimostrare che il virus sia trasmissibile nelle nostre zone, ma vogliamo ridurre al minimo il rischio. La febbre dengue in questo momento si contrae soprattutto in India, che sta attraversando la fase post-monsonica, che comporta un aumento delle zanzare e quindi anche del rischio di trasmissibilità. A chi dovesse recarsi nei paesi del sud-est asiatico si raccomanda di contattare il proprio medico. C'è un vaccino specifico, spiega il dottor Loprieno, per le persone in viaggio di lavoro. Più esposta al rischio rispetto a chi va in villeggiatura nei paesi tropicali.